Qualche giorno fa si è tenuto un briefing in Commissione ITRE, Industria, Ricerche ed Energia, con la direttrice generale della DG Ener, della Commissione europea, Matt Kild Wurtstoffer, sugli ultimi sviluppi della crisi energetica connessa alla guerra in Ucraina. La direttrice ci ha dato molte informazioni importanti. Il transito del gas dalla Russia in Ucraina si è ormai ridotto dell'80% e Zelensky ha dichiarato che il loro gas e il loro carbone resterà nel loro paese. Questo non è un buon segnale per il prossimo inverno in Europa perché il flusso di gas in arrivo dalla Russia è già molto diminuito. C'è un elevato rischio collegato alla fornitura del gas perché 10 stati hanno attivato il primo livello di emergenza nell'approvvigionamento, Italia inclusa, e 12 stati membri sono colpiti da parziale o totale riduzione del gas dalla Russia. Dal 16 giugno ad oggi il flusso del Nord Stream 1 è diminuito del 60%. La Russia ha attribuito questo calo a problemi tecnici dovuti alle sanzioni imposte dall'Unione Europea, affermando che si tratta di una contrazione temporanea. Ma è possibile, e tutti in Europa presumono, che in realtà sia una scelta strategica per indebolire l'economia europea. In ogni caso lo stoccaggio europeo sta continuando ed è già oltre il 50% della capacità come valore medio. Non c'è a livello di commissione dunque una preoccupazione immediata perché abbiamo l'estate davanti e perché stanno cercando di far lavorare al massimo i rigassificatori, oltre ad attivarne di nuovi entro ottobre in Olanda e in Germania. Tuttavia i rischi ci sono perché la situazione è molto delicata. Gasprom infatti ha annunciato una interruzione della fornitura per i primi giorni di luglio. Da quella data non arriverà proprio più gas e non è dato sapere se questo continuerà dopo il 10 luglio. Se ci fosse uno stop totale delle forniture di gas russo avremmo uno scenario con il 10-15% della domanda europea media per l'inverno che non potrà essere soddisfatta, dato da rivedere il senso peggiorativo se l'inverno fosse particolarmente freddo. Alla luce di questa situazione sono previste sei azioni per la preparazione europea verso l'inverno. Prima monitoraggio e coordinamento a luglio e agosto. Due sostituzione nel breve termine del consumo di gas con altre fonti energetiche nel settore industriale, nella produzione di elettricità e nel consumo domestico per reggere ad eventuali carenze di approvvigionamento. Tre accelerazione dell'efficientamento energetico e del risparmio energetico per ridurre l'uso di petrolio e gas. Quattro completamento dei piani di contingentamento nazionali e dei piani per la preparazione al rischio che ricomprendono i razionamenti energetici. Cinque massima velocità nell'attuazione dei piani di riduzione del consumo energetico per cui ogni stato membro dovrebbe ridurre la domanda da subito sia per quanto riguarda i grandi consumatori sia per le famiglie, prevedendo misure ad hoc per la sicurezza dell'approvvigionamento di ospedali e strutture emergenziali. Sei una diversificazione delle forniture, cioè creare una EU Energy Platform, una piattaforma energetica europea per arrivare ad una cooperazione intensa soprattutto con gli USA, poi con Norvegia, Egitto e Israele. Si sta lavorando già con piattaforme di collaborazione anche a livello regionale per vedere come rispondere alla domanda e come fare degli acquisti congiunti per ottenere i prezzi migliori in una situazione di emergenza come quella attuale. Si prevedono per i prossimi due mesi due possibili scenari. Primo, il gas russo continua ad arrivare, lo stoccaggio previsto nell'Unione Europea sarà possibile e dati i vincoli appena introdotti dovremmo essere certi di coprire il 100% del fabbisogno europeo per 40 giorni, ovvero meno di un mese e mezzo di consumi standard. Secondo scenario, il gas non arriva più. Avremo un significativo deficit di gas rispetto al necessario perché arriveremo al massimo a un riempimento degli stoccaggi del 70%. Diventerà quindi necessario ottenere gas dall'Azerbaijan e da altri paesi per poter garantire quanto serve, oltre ad accettare la necessità di inderogabili e importanti riduzioni dei consumi tramite efficientamento e risparmio energetico. Si stanno anche valutando dei tetti al costo del gas per evitare dei grossi squilibri di mercato. Sul versante del nucleare ci sono reattori russi in alcuni paesi europei che in caso di guasti esigenze di manutenzione richiederanno un intervento russo e al momento non c'è alternativa. Riguardo fino all'idrogeno ancora oggi viene prodotto al 90% con l'utilizzo di gas metano e quindi dobbiamo procedere spediti verso un idrogeno più pulito anche se non possiamo rinunciare ad un idrogeno a basse emissioni di CO2 ottenuto con il gas. Diversi paesi come Germania, Francia, Austria, Romania, Bulgaria hanno deciso di riattivare le centrali a carbone per poter avere l'energia necessaria in sostituzione del gas. Noi, Italia, che non abbiamo più centrali nucleari dovremo fare di più sul fotovoltaico, solare, eolico, idrogeno, dove possibile. Da questo incontro dunque è emerso con certezza che la situazione è molto più grave di come venga percepita a livello nazionale. I razionamenti energetici quindi diventeranno realtà a partire dal prossimo autunno, non appena la domanda di gas da riscaldamento aumenterà con i primi freddi. Ma anche se l'estate continua ad essere molto calda nel nostro paese, coprire il fabbrisogno di energia per gli impianti di condizionamento potrebbe diventare problematico. D'altronde il nostro capo del governo ci aveva avvertito che avremmo dovuto spegnere i condizionatori. Insomma, la strategia europea delle sanzioni alla Russia si sta dimostrando non solo totalmente fallimentare per far recedere Putin dall'Ucraina. La Nato ha previsto che la guerra durerà almeno fino al 2023. Ma per di più, catastrofica per le conseguenze delle contromisure russe sulla nostra economia, che verrà piegata dalla crisi energetica e dalla carenza di materie prime e da un debito pubblico sempre più elevato e sempre meno sostenibile e conseguenti speculazioni di mercato. L'Unione Europea ha messo a grave rischio la tenuta economica e sociale dei paesi membri. Per seguire scelte geopolitiche decise a Washington, che fanno dell'Ucraina il campo di battaglia fra USA e Russia e riversano sull'intera Europa i costi di una guerra che si sarebbe potuta assolutamente evitare e fermare subito con un approccio diverso. Io non so come andrà a finire, ma certamente ci aspettano mesi durissimi ed è bene saperlo per tempo per prepararsi al peggio.